C'è chi dà la mia parte del mondo, la faccia di un pallone rotondo, che si entra in aria, diventa ovale, ma spagli effetti non mi sembrano ormai. Dei bambini che giocano a pallone, quando mai li hai visti in televisione, Gli stadi pieni rimango perplesso, il telecronista è sempre lo stesso. Io credevo che un giocatore stesse concentrato solo sul pallone, invece questi hanno lunghi flashbacks, ma l'avversario in quel momento lo perdono. Ma in noi e in Teji tutto è normale, anche in Giappone c'è il mondiale. Ma in noi e in Teji nessuno è mai stato, ma quanto cazzo è un grosso campo. Il mondo è una trentina, costruito in cima a una torrina. Loro ne sanno calciare come noi, usano sempre posizioni, io che poi. Riescono a tirare, certe fucinate che volano in graso terra. Riescono a tirare, certe fucinate che volano in graso terra. Ma quanto cazzo è un grosso campo. Loro ne sanno calciare, costruito in cima a una torrina. Delle risposte ancora io cerco. Forse sta gente ha lavorato in un circo. Corre stanno al morale, ma io mi ascolta. Dopo un tre ore all'orizzonte, sputa la porta. Ma in noi e in Teji, purtro è normale, anche in Giappone, vince il mondo. Ma in noi e in Teji nessuno è mai stato, ma quanto cazzo è un grosso campo. Ecco la New Team che schiene in campo la formazione. Uno, 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 uno e uno, uno e uno, uno, uno e uno, uno, uno e uno, 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 uno e uno e uno, uno e uno, uno, uno e uno, uno e uno, uno, uno e uno, uno e uno, uno e uno e uno. Ma che succede? Mentre corre, guarda l'ora, e arriva dal passario. Questa è una donna prendere un caffè. E ne devi un altro. Si prepara al tiro. Si sta preparando. Si, si. Sta chiaramente per tirare. Me lo sento, adesso tira. Alla capa alzata. E finalmente tira. è un tiro incredibile signori la palla sprezza va a destra poi a sinistra poi sale esce dall'altra sfera poi riscende va sulla terra ora fuori sapete un ricordo il portiere si confa blef